Una battaglia iniziata nel dicembre 2015, la nomina di Fabio Vaccaro nella giunta Maragno aveva aperto la polemica sulle cosiddette quote rosa. A segnalare la violazione della legge 215 del 2012 era stata SEL con un ricorso al TAR che oggi conferma la necessità del rispetto di quel principio. Una notizia che SEL considera monito per tutti, non solo per il comune di Montesilvano. Il sindaco in un anno non si è mai degnato di darci una risposta. È chiaro che è un problema che c'è nell'intera comunità abruzzese, però crediamo fosse importante sollevare il problema a livello simbolico. Il ricorso vinto al TAR ci permette di dire che è un problema urgente su cui bisogna dare risposte. La risposta però è politica, nel senso che non vogliamo attaccarci ai tecnicismi e pensiamo che Maragno debba dare una risposta a questo con le azioni politiche, perché le norme sono figlie di battaglie che hanno portato avanti le donne in questi anni, poter avere cittadinanza nelle amministrazioni, avere un ruolo di primo piano alla pari degli uomini. Quindi crediamo che Maragno, se pensa di perseverare portando avanti un Consiglio di Stato un ricorso, sbaglia, buttando ulteriori soldi pubblici. O è in grado di cambiare questa giunta, di dare una risposta politica, oppure è meglio che si rimetta. L'amministrazione è silente, per un anno non ci ha mai risposto, abbiamo provato più volte a chiedere perché non desse una risposta politica, però all'oggi non abbiamo risposto. L'unica cosa che è uscita in questi giorni, dopo la sentenza del TAR, è l'ipotesi di fare ricorso al Consiglio di Stato.